Oggi siamo qua a Rò, a Villa Burba, per incontrare dei comuni del nord-ovest milanese e per confrontarci con loro sull'argomento della fiscalità locale. Questo è un argomento molto importante per le aziende di tutte le zone di Assolombarda e sul territorio bisogna lavorare insieme alle amministrazioni comunali per cercare di razionalizzare quelle che sono le imposte che vengono a gravare sulle aziende e che ne giocoforza caratterizzano un po' l'operato. La fiscalità locale è diventato un tema molto importante per le imprese tant'è che Assolombarda nel suo piano strategico ha dedicato uno dei 50 progetti proprio al fisco competitivo e alla fiscalità locale. Riteniamo che questa sia una materia che sempre più andrà a impermeare la decisione e la vita delle aziende e su questa Assolombarda sta lavorando in maniera molto approfondita e in collaborazione con le amministrazioni comunali tant'è che sono già stati raggiunti degli obiettivi molto importanti quali la possibilità di pagare per le imprese che sono sul territorio di Milano pagare i contributi TARES direttamente allo sportello di Assolombarda e abbiamo siglato col Comune di Rò un accordo per far sì che le nostre aziende possano dialogare con l'amministrazione su tutti i contributi comunali. Questa è un'occasione per riflettere insieme alle amministrazioni sulle varie aliquote e sulle opportunità che invece possono esserci magari andando al ritocco di alcune variabili per poter rendere il territorio più attrattivo e per cercare di portare qui aziende che probabilmente hanno delle esigenze e che potrebbero essere incentivate a venire sul territorio anziché magari rivolgersi altrove.